Namaste io sono Ace the Brave e benvenuti ad un altro episodio il penultimo di questa serie Rollercoaster Tycoon 3 un let's play a cura mia e come al solito in sovraimpressione trovate tutti quanti i riferimenti ai vari social network per potermi parlare in giro tra l'altro su steam continuo ad avere qualche difficoltà qua e là perché ho la lista piena ma ho bisogno delle carte per poter sbloccare praticamente slot per altre persone e veniamo allo scenario di oggi l'ottovolante perduto durante la sua ultima spedizione il maggiore St. John Smith scoprì l'ottovolante perduto una mitica costruzione menzionata nelle leggende locali che si riteneva perduta per sempre fu costruita da una popolazione di esperti costruttori di ottovolanti note come i wireless fai di questa ottava meraviglia degli ottovolanti il centro di un nuovo fantastico parco allora quello che dobbiamo fare è fondamentalmente sempre lo stesso ok dobbiamo avere un valore minimo del parco di 140.000 lasciare libere 18 pantere vedo che tra l'altro le pantere sono qua in giro quindi vediamo il dart cam tra poco e dobbiamo avere 4 ottovolanti di livello 5 quindi veramente tanti però come vedete il parco si presenta già con due ottovolanti che sono questi qua che sono tra l'altro di livello elevato adesso vedremo di sistemarli anzi sistemiamoli immediatamente mettendoli questo al massimo qua mettiamo basso attrito mettiamo il blocco a sezione e vediamo se ci stanno più di questi perfetto così testiamo ne testiamo il prezzo 2.40 è troppo poco facciamo 6.60 e quello rosso invece 7.70 adesso vediamo di alzare questo di alzare questo blocco a sezione non ci sta a quanto pare no a quanto pare non possiamo mettere blocco a sezione però sicuramente visto che da 7 facciamo anche questo 6 euro e facciamo 6 euro e 60 anche questo così li teniamo uguali e dovrebbero darci un bel po' di soldini vedete che sono molto carini perché salgono insieme scendono insieme fanno gran parte del percorso insieme a un certo punto si incrociano qua dietro è molto molto carino quello che dobbiamo fare è invece andare a raccogliere queste pantere vediamo se possiamo beccarle qua ok avanti un'altra ok avanti un'altra si era svegliata e l'abbiamo ribeccata ok manca questa perfetto e dovremmo essere a posto quindi ritornando qua intanto un sacco di gente sta andando qua sotto quindi mi fa molto piacere il fatto che queste funzionino controlliamo se si è aggiornato 6.80 7.18 addirittura quindi forse troppo intensa troppo intensa troppo intensa mettiamo 6.80 6.80 vediamo se va bene e costruiamo una zona per le pantere le pantere intanto hanno bisogno di che cosa dell'osteccato a catena quindi questo facciamo tipo una zona stramega effettivamente questa è una zona già colorata ah è tutto colorato qua attorno abbiamo un sacco di spazio per poter mettere le nostre pantere io voglio fare subito una zona qui facciamo una zona abbastanza grande facciamo così facciamo questa parte qua dietro qua abbiamo ok fin qua facciamo una zona fin lì ci aggiungiamo quella per le pantere che è questa tigre le leone pantera ok ne mettiamo una per ora qua facciamo frequente e tu ti istruiamo per bene ok e adesso vediamo un po' lo staff perché abbiamo bisogno di altri 1 2 3 4 custodi 1 2 3 manovali e un meccanico adesso vediamo di istruire tutti con calma come al solito vi ricordo che potete qua scrivere delle suggestioni dei nomi delle cose che vorreste vedere dentro questi parchi che vedrò di fare negli episodi bonus a questa serie in cui appunto andremo a rivedere qualche parco quella insomma per poter fare qualcosa di molto carino vediamo di istruirli al meglio i nostri custodi ok e adesso vorrei testare un po' quello che succede con le pantere perché voglio vedere l'habitat quante possono stare all'interno di una sola gabbia in modo che posso ridimensionare le cose in base a quello che mi viene richiesto praticamente quindi intanto andiamo a prendere alcune delle nostre pantere quindi questa questa erano 6 in giro se non sbaglio 1 2 dove sono le altre una è qua c'è ancora qualcuna una è qua vediamo un attimo se c'è nell'elenco 1 2 3 4 5 6 dove sei tu posso fare anche direttamente così narcotizzato prendi sposta fuggito prendi sposta 1 2 3 4 5 6 perché ne ho 7 lì esce dalla cassa narcotizzato ah ok ho ripreso la stessa più volte a quanto pare infatti si sono aperte le gabbie vuote ok qua dentro ce ne sono 4 dove sono le altre due? narcotizzato dove sei tu? Pablo? ok sono qua una e due ok adesso sono a posto vediamo anche come stanno come habitat non so sinceramente 6 di 20 non è tanto quindi socialità probabilmente sarà difficile da mantenere la salute è molto bassa la fame è molto alta quindi magari facciamo così prendiamo la salute è molto scarsa tra poco arriverà il VIP va bene vediamo di aggiungere allora un paio di questi tipo uno qua e uno qua con relativa gente ma si dai teniamo anche la gente che c'è qua mettiamo frequente e anche qua mettiamo frequente dov'è? qua ok già tutto frequente perfetto e volevo hanno veramente tanti custodi eventualmente dovrò spostare in modo che vengano più gabbie non una sola perché a quanto pare non ci vogliono stare così tanti tutti assieme quindi magari una la facciamo subito nel senso che prendiamo questa gabbia qui ok e quest'altra gabbia qua prendiamo una femminuccia e la spostiamo di qua prendiamo un maschietto e lo spostiamo di qua prendiamo te e ti spostiamo di qua qua ce ne sono uno due tre facciamo così così ce ne stanno due da questa parte e gli altri invece stanno tutti di qua vediamo se così va meglio come habitat cosa mi dite voi? allora socialità alta habitat alta quindi in quattro in una gabbia di quelle dimensioni stanno bene qui anche praticamente quindi va benissimo così devo dire vediamo di fare un bel percorso allora che passa ce la facciamo metterlo qua? no qua dietro no però qua si facciamo un bel percorso così e così no e così ok in modo che possiamo posizionare un paio di gabbie per guardare quindi ce ne sta una qui e una qui e una qua le apriamo tutte e le mettiamo a 3 euro e 5 proviamo a vedere se cambia qualcosa cioè se succede qualcosa con i prezzi non pagherò tutti questi soldi va bene allora mettiamo 2 vediamo se va meglio intanto è arrivato un VIP non pagherò tutti questi soldi va bene allora mettiamo 3 ok 3 a quanto pare va bene e di qua non è molto entusiasmante non so perché non sia molto entusiasmante probabilmente perché non c'è granché di di colorato forse devo aggiungere un po' di alberi quindi facciamo una cosa di questo tipo intanto lo coloriamo con un verde un po' diverso non so se cambi qualcosa ma non si sa mai ok e ci aggiungiamo un po' di alberi un po' di acace che fanno sempre comodo ok vediamo se cambia qualcosa non è molto entusiasmante però ha un buon prezzo ottimo quindi 3 e vediamo se funziona anche questa adesso sembrerebbe di sì quindi la gente viene a vedere queste cose perfetto e vagoncini sembra una attrazione troppo intensa va bene facciamoci un giretto così quasi facciamo un giretto su questa tra l'altro sono aperte entrambe sì sarebbe bello farle partire insieme in qualche maniera così vediamo e intanto pensiamo anche a fare altre gli altri due ottovolanti che ci vorranno tra l'altro il nostro amico deve salire su due ottovolanti di livello 5 quindi diciamogli questo e questo ok e poi vedremo di fare altro intanto sono partite insieme aiuto aiuto voglio andare qua quindi partiamo con a fianco i nostri amici come potete vedere bello che mi piace un sacco che partano assieme e quindi molto molto bella questa cosa e si parte vedete vedete che avete gli altri a fianco si sale si riscende in curva adesso dovrebbero superarci in qualche maniera perché siamo un po' più avanti eccoli là adesso qua ci si incrocia praticamente perché adesso vengono contro di noi come avete visto poco sulla sulla destra per un attimo si ritorna qua sopra sono di nuovo avanti loro e si torna indietro in stazione qua loro qua ce n'è uno in più blu quindi va bene lo stesso devo dire che comunque abbiamo un bel guadagno mi sembra abbiamo speso un sacco di soldi però dovremmo avere un buon guadagno la valutazione del parco ce l'abbiamo dobbiamo lasciare liberi un po' di di pantere varie e quindi vediamo intanto come va come guadagno e se no aspettiamo un po' di tempo come va l'habitat eccetera ok devo dire che voi siete al massimo eppure voi eppure tu sei al massimo perfetto quindi velocizziamo intanto pensiamo allora a quelli che sono i nuovi ottovolanti potrei fare un ottovolante tra l'altro serpente marino tra le varie cose l'ho ricercato dove? è uno di questi? serpente marino no topo ottovolante verticale questo mi piace abbastanza il quadrifoglio ha una trazione abbastanza carina perché vi permette di metterla vedete che se noi la guardiamo dall'alto c'è un grosso quadrifoglio in questa zona e possiamo provare a metterla quanto bassa deve essere qua non mi sembra neanche male come cosa un po' sovrastante quello quindi va benissimo vediamo se riusciamo a metterla ancora un po' più incastrata ad esempio qui però avrebbe l'altezza sopra quelle non mi va bene quindi teniamoci ancora un po' più in qua diciamo così costa 18.000 ok costa decisamente tanti soldi però possiamo prendere un prestito fino a 18.000 perfetto e mettiamola mettiamola qui ok ce l'ho fatta a metterla non ho abbastanza fondi perché ho speso proprio tutto tutto questa la mettiamo in prova è da 5.90 vediamo se riusciamo ad alzare ancora un po' con questa e questa avendo il blocco a sezione possiamo aggiungere un po' di vagoni ok ah proprio vagoni piccolo piccolo pensi di partire tanto è rimasta incinta porzia il vip sta lasciando il parco dovrebbe essere soddisfatto quindi la prima cosa ce l'abbiamo ha un aspetto buffo ok con questi non riusciamo ad andare avanti quindi facciamone uno la stazione è abbastanza corta però in realtà possiamo aumentarla lo faremo così quindi questa curva S adesso mettiamo stazione 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 in modo che possiamo aumentare almeno mi dispiace che con il blocco sezione non c'è permesso fare sta cosa purtroppo non posso mettere più ah c'è solo un vagone c'è solo un vagone da due non posso farne di più ok e proviamo a testarla così allora no perché si blocca qua allora mi tocca fare uno intanto abbiamo soddisfatto il nostro VIP perfetto 6 ottimo e quindi potremmo cercare di farla a 580 non mi ricordo se questo vuole a livello 5 ok quindi va bene mi piace anche abbastanza il colore vediamo di concluderla e aprirla aprirla però ovviamente mancano l'entrata e l'uscita che andiamo a piazzare subito questa facciamo così no non possiamo farlo perché non abbiamo i soldi dobbiamo aspettare un po' di tempo per poterla fare qua in teoria posso tirare avanti questa ottimo adesso vedremo di piazzare questa cosa solo che siamo sotto zero in questo momento quindi basta aspettare un po' per godagnare non so ok ok a posto qua c'è una fila assurda per questa però va benissimo ed è praticamente il quarto e adesso mancherebbe scusate il terzo e adesso mancherebbe il quarto effettivamente non è molto entusiasmante me lo dicono ancora a un buon prezzo non pagherò tutti questi soldi però va bene lo stesso magari mettiamo due euro anche qua ok e vediamo un po' come sono messi i nostri animali perché effettivamente ne abbiamo sei ma dobbiamo liberarne sei e poi liberarne diciotto quindi veramente tanti però possiamo acquistarne sempre di nuovi quindi li acquistiamo e li liberiamo li acquistiamo e li liberiamo e così via quindi tu non sei incinta ti posso liberare non posso liberarti perché non hai 90% qua è frequente c'hai abbastanza gente che ti cura quindi in teoria dovrei riuscire a liberarti tra poco vedete che qua sta salendo ancora un po' il divertimento la socialità l'habitat non è dei migliori forse ci vuole ancora un po' della grandezza della gabbia quindi vediamo magari di farla facciamo così vediamo se basta ok adesso basta perfetto e quindi possiamo liberarla al momento dobbiamo dare un'occhiata a quanto costano anche effettivamente perché ci serve saperlo costano 722 praticamente quindi se io prendo questa questo maschietto e lo liberiamo ok è stato rimesso in libertà prendiamo anche la femminuccia e dobbiamo aspettare che vada che è migliore in salute adesso e possiamo liberarla ottimo e possiamo prenderne altre due fondamentalmente perché in realtà li compriamo ma li compriamo liberati li compriamo con una se non sbaglio no li compriamo già con un tot di salute quindi effettivamente questo lo possiamo fare semplicemente comprando e vendendo comprando e vendendo eccetera 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 intanto abbiamo tre animaletti che sono arrivati nuovi che possiamo anche non possiamo lasciare in libertà però possiamo vendere effettivamente possiamo venderti ciao 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 e ciao Petronio perfetto con i soldi accumulati possiamo liberare il nostro amico Piero tu sei Porzia e non sei più incinta quindi anche a te possiamo liberarti e dove sono gli altri due Pablo possiamo liberarlo perfetto e manca dov'è l'ultimo animale eccolo qua Pamela che se non sbaglio è ancora incinta quindi aspettiamo a meno che partorisca in modo che quando partorisce possiamo vendere i cuccioli e liberare lei e completare la prima delle sfide intanto forza 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 ancora un mesetto tra l'altro ci mettono un poco anche a fare affigliare rispetto ai panda che ci mettono 36 mesi ok direi che ce la facciamo aspettiamo questo mesetto poi praticamente arriverà il prossimo VIP perché effettivamente le altre due cose ce le abbiamo quanto abbiamo di valutazione del parco quasi 100.000 e quindi dovremmo costruire ancora qualcosina in realtà da questa parte sta funzionando da questa parte dobbiamo aspettare ancora un po' qua abbiamo chiesto un prestito quindi nessun custode per riempire l'erogio dovresti modificare i compiti ma dove? ma se ci sono un miliardo di altri custodi qua vabbè ogni tanto il nostro rispettore fa un po' le bizze fame set ancora un mesetto socialità adesso è bassa semplicemente perché intanto abbiamo Pier Erminio Priamo e il fiume Lento così a caso prendiamo allora una pantera maschio che così ha un po' di socialità in più dove sono gli altri dove li hai partoliti ah di qua ok quindi tu che sei un baby ciao e tu che sei l'altro baby ciao ottimo e tu invece che sei Pamela potrei liberarti però devo aspettare ancora un attimino quindi vedi di mangiare in modo che ti va giù la fame ti sale la salute e posso liberarti e completare la prima parte dello scenario dovrebbe essere a posto quindi ciao e intanto siamo diventati dei degli imprenditori aggiungiamo un pantera femmina ok perché dobbiamo liberare anche lei e aggiungiamo già che ci siamo un altro maschio e un'altra femmina perché tanto qua ce ne stanno quattro quindi un altro maschio e un'altra femmina così vediamo di fare la stessa cosa dopo qua funziona sì possiamo anche a sto punto rilasciare te e rilasciare te e prendiamo un altro maschio e un'altra femmina in modo che facciamo da da cura per tutti quanti qua siamo 8 su 12 quindi ci siamo 105.000 manca poco il divertimento per il nostro personaggio qua funziona nel senso che facciamo 1 nel quadrifoglio e 2 e 3 ok e ci siamo mancherebbe l'unica cosa che manca in realtà è l'ultimo ottovolante e qualche altra attrazione tipo io metterei gli aerei in volo che non li ho mai messi che tra l'altro è giganteschissima come cosa mettiamo l'entrata qui e l'uscita qua apriamola 6 stra mega gigante ed è 6 solo da 3 euro e 30 vediamo di mettere questo qua e vediamo di mettere questa che fa questo giro qua ok aperta e aperta e mancherebbe un paio di negozietti da mettere effettivamente per guadagnare qualcosa in più mettiamo il chiosco delle informazioni che ci sta sempre con la porta in davanti proprio ok e velocizziamo un po' così vediamo anche questi aerei se funzionano quanto pare funzionano bene cioè tengono tante persone più che altro che è una cosa che mi fa molto piacere qua stanno funzionando vediamo se aumentano abbastanza la loro salute in modo che possa di nuovo venderle e anzi non venderle ma rilasciarle quindi forza e coraggio diamo un'occhiata anche agli altri voi come state invece uguali praticamente quindi vediamo di tenere loro due come come zona da da import export mentre di qua lasciamogli di figliare eventualmente se dovessero è arrivato il VIP che dovrebbe essere molto contento della zona abbiamo tra l'altro anche un bonus di valutazione tra l'altro e quello che dobbiamo fare oltre è il quarto ottovolante di livello 5 che adesso vedremo come fare tanto possiamo Penelope a posto aspettiamo magari nostro amico no liberiamo Penelope e prendiamo un'altra pantera femmina teniamo gli occhi su non riesco a prenderlo troppo veloce ok ok pompeo 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 che a quanto pare possiamo andare via perfetto andiamo con un altro maschietto che non si sa mai che figlino siamo a 10 quindi ci manca poco anche per quello tu sei a posto nel senso che stai facendo il giro pamela è rimasta incinta pamela è dall'altra parte ok quello che mi interessa ottimo e eventualmente io farei anche così porzia quanto ti manca per avere una salute buona ancora un pochettino molti visitatori hanno fame gli alloggi del custode vabbè ma quelli bisogna darci un'occhiata più che altro andiamo di mettere qualche alloggio di bistecche bistecche di pantera che mettiamo qua aggiungiamo anche qualcosa da bere bevande aggiungiamo anche un cappello safari che ci sta sempre tra l'altro in questi ultimi scenari quasi tutto è sbloccato ormai quindi va bene così per adesso controlliamo come sta nei nostri animali quasi quasi voi due posso già mandarvi via perché vi manca veramente poco ok quindi uno e due ok questo mi dà la possibilità di completare questa parte ce ne mancano ancora sei che dovrebbero essere praticamente gli ultimi in realtà se io libero poi lo steccato dovrei avere tutti a posto qua facciamo così e aggiungiamo adesso ci manca da accumulare un po' di soldi per l'ultimo roller coaster che vediamo subito quale può essere anche uno abbastanza semplice in realtà senza andarsi a complicare troppo la vita un e quando lo dico così vuol dire che sto per scegliere il topo scatenato ho anche l'ottovolante junior quanto sei 590 ma anche questo potrebbe andare 6000 costa per bambini con i tronchi così abbiamo anche l'ottovolante per bimbi che andiamo a mettere qua 6500 dobbiamo aspettare un po' di tempo per poterlo piazzare ma lo piazzeremo qua oppure possiamo piazzarlo si anche prendiamoci un po' di spazio si mettiamolo qua pure qui 6800 dobbiamo aspettare solo un attimo di tempo quando abbiamo piazzato questo abbiamo i 4 roller coaster che servono al nostro capitano qua al nostro maggiore e ci avviamo già verso la conclusione perché in realtà le pantere basta mandarle via il VIP ha lasciato il parco e dovrebbe essere soddisfatto e quindi dovremmo completare anche il terzo livello e adesso ci manca semplicemente un po' di soldi per poter mettere giù questo se partoriscono le pantere e riesco a vendere i piccoli il camp dovrebbe darmi un piccolo bonus ai soldi il VIP ha lasciato il parco dovrebbe essere soddisfatto ok i tassi di interesse sono diminuiti il camp è una cosa molto bella perché mi fa risparmiare un pochettino vuoi agitare la sfida costruisce un'ottovolante che superi le 80 miliardi all'ora va bene non ce l'ho però vabbè non ce l'ho e basta 6800 dobbiamo aspettare un po' di tempo perché non ho i soldi e il VIP starà per arrivare quasi mi sa quindi incrociamo le dita se riusciamo a farcela prima a guadagnare 2000 la danza celeste la danza celeste anche abbiamo 6800 quando è che arriva il VIP? a giugno il 16 giugno quindi tra pochissimo e devo vedere anche il valore del parco perché non so se basterà questo per farlo arrivare a quello che vogliamo eventualmente dovrò aggiungere qualche altro tipo di attrazioni il VIP arriverà entro una settimana non credo di avere i soldi necessari per fare questa cosa vediamo se c'è un topo scatenato che può corrermi in salvataggio adesso può venire in aiuto tipo la bello 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 la corsa dei topi a forma di zucca a forma di topo scatenato rotante che ci sta e tu ci stai anche meglio qui costi 3000 e quindi vai molto molto semplice non voglio stare a complicare troppo la vita perché volevo vedere quella che è la dinamica delle pantere ti mettiamo a 6,40 no 6,40 un po' troppo facciamo 6,30 questo lo aumentiamo al massimo basso attrito numero di carrelli ce ne stanno 6 testiamolo un attimo intanto che costruisco l'entrata e l'uscita così 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 ok e mettiamo l'entrata così 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 e così 6,31 quindi possiamo fare forse 6,10 no va bene così dai facciamo quindi aperta e al nostro maggiore gli diciamo di andare qui qui e nelle 2 ovviamente che sono già costruite quindi rosso e blu ok così hai 4 che vuole lui è appena arrivato tra l'altro 140.000 non credo di averli raggiunti no perché mancano ancora 20.000 ma li raggiungeremo presto e dobbiamo liberare almeno 6 pantere vediamo se possiamo farlo quindi vediamo tu come stai oh tu sei più che libera no ho sbagliato tu sei libero dove sei dove sono le altre non le vedo Plinio non sei libero e andiamo a vedere sotto questo in modo che possiamo vedere sta per partorire Pamela tu sei libero tu sei non sei libero tu sei no e tu nemmeno ok quindi vediamo un attimo abbiamo 2 2 femmine 2 maschi credo di aver venduto o liberato uno di questi intanto abbiamo Pier Pier Erminio di nuovo che vendiamo e diamo un'occhiata a che cosa abbiamo anche Pier Carlo che possiamo vendere e adesso possiamo liberare anche lei vero si e Porzia invece Porzia dobbiamo aspettare un pochino voglio dare un'occhiata allora chi c'è questi sono i visitatori no volevo vedere questo c'è rimasto Porzia Plinio che dov'è dove sei tu Plinio possiamo liberarlo perfetto e Pietro Pietro dov'è Pietro di qua questo è Pietro quindi di nuovo di qua ci va una femminuccia di qua ci va una femminuccia ci vanno due maschietti che questa è Porzia perfetto ok qua siamo a 16 dobbiamo liberarne solo due non siamo riusciti a completare la sfida ma va bene se riesco a selezionarlo a velocità normale Piera e Pietro Pietro lo possiamo dar via? non ancora aspettiamo ancora un attimo dobbiamo aspettare che gli vada su ancora di più la salute dovrebbe essere adesso quel punto giusto perfetto prendiamo un altro maschietto e lo mettiamo qua in modo che comunque facciamo un po' di soldi in questa maniera e poi ci mancava Porzia che è lei che non ha ancora la salute al massimo ma basterà aspettare un pochino perfetto dai che ce la facciamo vai a bere mangiare far qualcosa fai qualcosa vediamo se riusciamo a far arrivare qualcuno in alto socialità abbiamo un maschio maschio tu che lo sai? tu sei una femmina si ok quindi a quanto pare di là non succede hanno un problema di socialità ok sta migliorando decisamente dov'è Porzia eccola qua no questo è Pompeo non lo vendiamo ma lo rilasciamo questo ci frutterà qualcosa perfetto andiamo a mettere un altro maschietto non c'è un altro un altro pan ok ok questo l'abbiamo completata il maggiore dovrebbe essere a posto e adesso vediamo quella che è invece la il valore del parco ci manca ancora qualcosa di un valore di 2000 no di cos'è che ho letto 5000 dobbiamo arrivare no 15000 quindi vediamo di mettere le attrazioni di questo tipo qua mettiamo un avvitamento e lo piazziamo qua sotto 1 e 2 e lo mettiamo a mi fai la valutazione facciamo così ok 257 facciamo 230 adesso come siamo 125 vediamo quanto schizza il cannone d'acqua tra le varie cose dai che ci siamo tra l'altro il valore del parco dipende molto da questo in realtà cioè dipende da anzi non da quello ma da quanto contante stiamo guadagnando rispetto a quanto ne abbiamo preso comunque siamo solo a 127000 a conto quale cos'altro possiamo mettere possiamo mettere un anelli spaziale che non c'entra niente però è figo lo stesso no mettiamo qualcosa di più più consono tipo la giostra che non so perché sia più consona ma è bello lo stesso da vedere e la mettiamo qui entrata uscita semplice semplice il VIP dovrebbe essere soddisfatto e quindi adesso si tratta solo di aumentare il valore del parco 160 il valore del parco è 124000 quindi è sceso un po' il VIP ha lasciato il parco e dovrebbe essere contento non sei riuscito a soddisfare il VIP? come no come no 6 e 18 6 7 e 7 perché non sei soddisfatto? corsa di topi quadrifoglio vangoncini vangoncini sei uscito a caso perché ti sei rotto le balle vabbè prossima volta che tornerà vedremo di accontentarti le pantere le abbiamo liberate tutto dobbiamo vedere appunto questo 125000 che adesso vedremo di alzare in qualche maniera quindi vediamo di prendere non so una una casa notturna mamma mia che grande e mettiamo una trazione qua sotto non so perché ma la metterò qua con entrata uscita la apriamo tu sei da quanto? da 2 quindi facciamo 1 e 80 ok e adesso ti mettiamo il percorso ok dovresti funzionare qua vediamo se ci sta ancora qualcosa tipo un cosa ci possiamo mettere una cosa piccola piccola tipo il giroplano ok abbiamo 138000 quindi ci siamo quasi aspettiamo che apra 136000 adesso 395 facciamo 380 e aggiungiamo un po' di negozi a sto punto tipo i giocattoli dino i giocattoli safari non dino 146 quindi ci siamo aggiungiamo le bevande al cocco aggiungiamo 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 un'altra roba da mangiare tipo le le ciambelle salate i pretzel e aggiungiamo un bancomat qua in fondo 145000 quindi ci siamo andiamo a tirare giù un po' di contanti in modo che dovremo guadagnare un po' di più ok 145000 troppo affollati ma va bene lo stesso e vediamo di mettere che cos'altro un uno zipper che andiamo a piazzare qua dietro anzi qua sotto ancora meglio ok e mettiamo l'entrata qua oddio no di nuovo quel problema vediamo di spianare il terreno qua ce lo facciamo ok vediamo se ci sta ok 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 e o no arg doppiamente arg riproviamo a fare allora spiana dov'è questo spiana mettiamo questo a 1 niente dobbiamo tirare via tutta la trazione quindi questa ciao riproviamoci zipper non qua riproviamoci zipper qua 1 e 2 vediamo se adesso ci sta no niente 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 allora se vado qua e facciamo così facciamo così spiana e facciamo 4 ok vediamo se così va meglio zipper sembra di no infatti non è così vabbè come non detto non mettiamo lo zipper là qua questa funziona ancora l'entrata si l'uscita pure quindi non tocchiamo nulla di quella parte intanto sta per partorire pia la pantera e qua ci possiamo mettere un burro di arachidi iso e lo apriamo intanto qua abbiamo un po' di animaletti nuovi che andiamo a vendere intanto abbiamo mille persone mille e cento persone nel parco mamma mia tante 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 1 e 74 facciamo 1 e 60 il vip è nel parco non so se il vip è già nel parco o no sembrerebbe di no al massimo torna il 29 aprile quindi tra un pochino se lo facciamo avere un valore alto non dobbiamo aspettare tanto entro un mese arriverà il vip 144 perché ci diminuisce così tanto il valore del parco aspetta che vi dico mi sono rotto un po' le balle e quindi ci mettiamo un bel l'ottovolante rotante costa 4000 ce li abbiamo praticamente si perché basta fare così e questo lo andiamo a piazzare se abbiamo un altro ottovolante in più dove è l'entrata l'entrata è su questo lato in teoria possiamo metterla c'era un punto bello qua qui vado per qui si lo so è un po' incasinato adesso ma va benissimo 4 e 49 facciamo 4 e 4 basso tritto alza questo numero di vagoni proviamo a mettere un po' di più 3 apri anzi testa tanto che testa vediamo di aggiungere la strada per arrivarci ok e questo per poterci entrare 4 e 71 vada con il 4 e 60 e fallo pure partire adesso sicuramente saliremo sopra i 150 probabilmente no ok 151.000 e quindi ce l'abbiamo fatta adesso manca da impressionare il nostro VIP quindi aspettiamo lui e vediamo di trasportarlo in giro da soli perché da solo non ce la fa teniamo quella là entra una settimana e arriverà il VIP appena arriva vediamo di trasportarlo o no in giro tra l'altro la valutazione è altissima è 985 ok VIP è arrivato appena salta fuori dove sei VIP eccolo come vedete è anche più grande del normale quindi lo prendiamo non puoi raccogliere ok perché è fuori dal parco entra nel parco dove te ne vai ok allora ehi e ti porto qui così ti fai il tuo giretto ti ho già detto dove andare vero togli vai alla corsa di topi ok bravo quindi intanto sta arrivando la corsa di topi si fa il suo giretto in anticipo rispetto a tutti gli altri eccolo qua qua c'è lui sembra molto contento a quanto pare bloccato 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 di nuovo qui ok e il suo primo giro se l'è fatto perfetto esci da là adesso va verso il quadrifoglio ti aiuto io ad arrivarci sta tornando all'entrata allora vai qua ok adesso è entrato giusto si fa il suo giretto in anticipo rispetto a tutti guardatelo qua che giri che fa ok a quanto pare sembra molto contento adesso va verso i traballanti rossi e ti sposto quindi ah per quello ci vuole forse perché ci vuole tanto ad arrivarci l'entrata ce l'hai qua sotto quindi io ti piazzo direttamente qui qui dovrebbe entrare abbastanza facilmente sui vagoncini rossi eccolo qua perfetto adesso sta salendo qua sopra ok è sul vagoncino rosso in testa sta facendo tutto il giro ok ci siamo e adesso sta andando verso quelli blu per andare verso quelli blu ti rimando qua sotto e adesso dovresti fare due passetti qua e arrivarci perfetto qui intanto restituiamo il nostro prestito la voglia di entrare c'è ed è di nuovo in prima fila e dovremmo averlo soddisfatto anche questa volta vediamo subito che giro si fa questa volta lo facciamo con lui così quasi qui perfetto eccolo qua al maggiore proprio al nostro fianco e ci facciamo un giretto con lui questa volta sulla trazione blu non su quella rossa così vedete un po' la differenza come vedete è un po' più avanti la rossa come parte qui bello bello mi piace un sacco come ho fatto questo questo roller coaster doppio praticamente stavolta li abbiamo superati perché abbiamo fatto la curva interna qua come vedete la differenza che siamo saliti sopra anziché andare sotto e adesso appunto li incontriamo al contrario si scende si sale si scende curva curva e dovremmo essere arrivati arrivati con un bel botto a quanto pare anche e ce l'abbiamo fatta qui abbiamo ancora 2000 quindi perfetto abbiamo concluso anche il nostro prestito giusto giusto cosa fai maggiore in una trazione ah ha fatto un altro fa un altro giro no sta uscendo ok e sta andando a casa quindi ti prendo e ti porto direttamente qui ciao ciao l'abbiamo impressionato si siamo di veri magnate e ce l'abbiamo fatta anche con questo e quindi ci vediamo all'ultimo episodio di questa serie con l'ultimo parco di divertimenti di rollercoaster tycoon 3 io sono Ace the Brave namaste and be brave